Il sentito derby tra Foggia e Fidelisandria, valido per la prima giornata del girone C del campionato di Lega Pro, si disputerà lunedì 29 agosto alle ore 20 e 30 presso lo stadio Zaccheria. Il match inizialmente era stato programmato per domenica 28 agosto alla stessa ora, ma la richiesta di posticipo della società rossonera, spossata anche da quella del presidente Paolo Montemuro, ha avuto esito positivo e quindi la Lega Pro ha disposto che la gara venga disputata lunedì a porte chiuse. Grazie